Sergio Viotti, cosa si prova ad essere il grande protagonista della vittoria di oggi del Ciliverghi nel derby contro la Drense? Soddisfazione immensa, soddisfazione immensa che dedico ai due rigori parati, dedico innanzitutto ai miei familiari che non mi hanno mai lasciato soli in questo anno di inattività e dopo lo dedico a tutta la squadra che mi hanno accolto da due mesi a questa parte, mi hanno accolto in un modo grandissimo, i più esperti, i più giovani, mi stanno facendo vivere questi mesi qua a Ciliverghe col sorriso e quello che mi mancava in questo anno qua di inattività. Una squadra che oggi ha lottato tantissimo, ha trovato il vantaggio subito, poi ha un po' sofferto per il ritorno della Drense e nel momento in cui sembrava vicino il KO, ovvero dopo il pareggio della Drense, ha trovato una forza, una direzione che ha portato alla vittoria e ha saputo gestire anche il finale sotto i due uomini. Sapevamo che non era facile, loro è una squadra organizzata che vengono come noi in un momento di grandissima salute, in un campo sintetico, è stata una bella battaglia, abbiamo fatto 1-0 subito parando il rigore, abbiamo mantenuto fino al primo tempo, poi secondo rigore parato, abbiamo avuto l'occasione di fare il 2-0, ci pareggiano, sinceramente, detto sincero, in campo pensavo di pareggio, anche se era un momento che vedevo, eravamo stanchi perché è sofferenza, ho visto i miei compagni da difensore, centrocampo, l'attacco a soffrire, a correre, a mai mollare e dopo è arrivato il gol del giovane Pasotti che sono contento per lui perché è la sua prima esperienza in una prima squadra e quindi non è mai facile. Poi ha la pressione di essere giovane, però è un ragazzo che ogni giorno si è messo a disposizione del gruppo, si è fatto volere bene e io gli posso dire che gli auguro tutto il meglio di questo mondo. Brava la squadra a gestire la partita, a sapere agire, ma possiamo dire anche determinante allenatore che ha rimodulato lo schieramento in campo nel corso del secondo tempo per due volte e ha messo in difficoltà la Drense. Ma il mister è preparato, come tutta la squadra ha passato dei momenti di difficoltà perché il calcio è un alto e basso, però fortunatamente il ritorno sta facendo qualcosa di importante, molto importante, però fino a domani mattina ci godiamo questo momento. Da martedì ci aspetta prima della pausa un'altra grande battaglia che dobbiamo per forza fare punti. Una volta finita la partita di domenica prossima vediamo dove siamo, facciamo un attimo il resoconto per trovare nuovamente questa salvezza che tutti stanno sperando. Lo avevi detto tu ed è diventato un po' il moto della squadra, bisogna raspare, 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 e ci sarà ancora da raspare di più contro l'entigione, viste le tante assenze, Andriani, Pasotti, Vignali? Siamo nati per soffrire, quest'anno soffriremo ancora, però ti dico che è bello tutto nel senso il gruppo, tutto, siamo una cosa unita. Dopo quella famosa intervista, dopo classe, apporto un po' fortuna, quindi andiamo avanti. Noi siamo lì che raspiamo, rasperemo fino al 2 maggio e speriamo di giocare tutti insieme, che ce lo meritiamo tutti veramente. È un po' una seconda giovinezza questa, perché è l'occasione del grande rilancio. Ho sposato questo progetto e anzi mi ha dato la possibilità, mi correggo la società, di rimettermi in gioco, che non è facile. Io ho testa bassa, mi metto a disposizione dei miei compagni, dell'allenatore della società, ringrazio l'allenatore Angelo, e anche Andrea Valtorta, che ti dico che mi sta dando anche lui una grossa mano, perché capisco che non è facile che arriva un altro ragazzo, gioca magari al tuo posto, poi fai bene, dopo gioca in un altro posto. Però questo è il calcio, lui è una persona molto intelligente, si è creata una grossa sintonia, ogni giorno l'allenamento, lui corregge meglio, tu puoi vedere ogni giorno. L'importante è una crista personale, lui è 2000, magari essere 2000 come lui ha davanti una grandissima carriera. Grazie Sergio. Prego, grazie.